Origini dell'arte contemporanea di Vittorio Sgarbi Uno dei temi risolti dell'origine dell'arte contemporanea è il momento in cui si possa dire che un'opera d'arte, un dipinto, una scultura ha a che fare con la sensibilità moderna e quindi il gioco è quello di arretrare fino a un punto che coincide con le origini ed è esattamente il percorso che ha fatto l'arte contemporanea nel suo porsi come arte d'avanguardia Intorno ad alcuni artisti, in particolare a uno che è Pablo Picasso in cui si sintetizza l'intera esperienza della civiltà figurativa contemporanea Dico Picasso perché è facile, evocando questo nome, sia a chi lo ha guardato con attenzione ne ha visto le opere nei musei, ha visto il museo Picasso sia a quelli che non hanno mai visto un dipinto, né antico né moderno e neanche un dipinto di Picasso è facile al sentire questo nome immaginare qualcosa più facile immaginare per chi ha visto, per chi ha conosciuto meno facile evidentemente per chi non ha idea di cosa sia un'opera d'arte, un quadro però ha inevitabilmente idea di cosa sia un'immagine perché vive e convive con la televisione vive e convive con le immagini pubblicitarie, vive e convive con i giornali immaginiamo il più distante da tutto e da tutti che è un barbone, uno che ha fatto la scelta fare il barbone è una scelta che ha a che fare con le ragioni stesse dell'esistenza non capita di fare il barbone è una scelta, sia pure condizionata ed estrema per essere fuori della società, fuori della storia ed è una scelta analoga a quella del monaco chi decide di rinunciare alla socialità, al rapporto con gli altri si ritira in un convento e vive una esperienza separata a me è accaduto di vedere recentemente la cicatena in un luogo meraviglioso, in un convento, in un bosco mai toccato da mano umana, quindi mai restaurato da architetti i sovrintendenti, quindi con i meravigliosi pavimenti gli intonaci del Settecento è abitato da uno spirito e non da un uomo di un monaco che, come raramente mi accade salvo che fuori Italia vedendomi mi ha visto come se fossi trasparente cioè non mi ha riconosciuto è stato gentilissimo lo stesso non aveva la televisione, non aveva la radio stava in questo convento da solo e in questo convento viveva con qualche rapporto di socialità in una dimensione di assoluto ritiro in un ortus conclusus anche letteralmente in una condizione di felicità felicità inconsapevole per di più comunque una scelta e quindi esistono uomini che decidono di ritirarsi dal mondo e possono avere la fortuna di chiudersi in un convento come questo a sua volta ritirato dal mondo preservato dalle violenze così frequenti nella ignoranza e nel cattivo gusto di chi restaura un altro modo di ritirarsi è quello di sparire come è toccato probabilmente a Federico Caffè e nella mitologia di questo secolo a Ettore Majorana l'idea di non esserci più ma di non essere morti ecco uno dei modi per non esserci più e non essere morti oltre a quello del convento in cui comunque un riferimento anagrafico è sempre possibile perché comunque ti mandano la scheda elettorale sanno dove sei ma per perdere anche quei diritti civili o incivili e in una condizione ancora più ritirata di quella del convento c'è la condizione del barbone del mendicante di quello che decide di rinunciare a tutto e di sparire, di perdere l'identità, il volto e addirittura poi come capita anche ai vecchi i mendicanti sono tutti uguali non hanno più identità hanno una sporcizia un modo di selvaggio ecco un essere selvaggio siamo tornati al punto di partenza la natura primitiva o selvaggia che è un elemento dell'arte contemporanea la natura primitiva e selvaggia nella civiltà e nelle città come condizione per essere fuori di tutto e non sapere niente dell'arte contemporanea però anche il mendicante quindi la persona più lontana e più estranea al circuito reale della società sa chi è Picasso può sapere chi è Picasso e per questo ho pensato di partire da lui e da lui ricostruire o tentare di ricostruire l'origine dell'arte contemporanea original Diva original dub play no one can play this but Refugee Son the number one son now listen to Miss Whitney Houston come with us yo, this is Whitney Houston yes, Massif this is the original vocalist I like to say rest in peace to Dennis Brown If tomorrow is judgment day Night is in the air And I'm standing on the front line And the Lord asks me what I did with my life I would say, why club murder the sound boy If I wake up in World War III If you believe in the most high hands in the air I see destruction and poverty East Coast, West Coast Dunque il Mendicante Il Mendicante è una città grande Pur distratto da tutto Non guarda la televisione Non ascolta la radio se non incidentalmente Però cammina per le strade E vede grandi manifesti pubblicitari E vede immagini che lentamente Attraverso un processo che è derivativo Si ispirano a un'estetica che non è più l'estetica classica Ma è l'estetica moderna Alcuni artisti come David Hockney per esempio Hanno sicuramente segnalato nella identificazione dell'immagine contemporanea Un rapporto assoluto Un rapporto assoluto Speculare, palmare con la pubblicità Non sapremmo dire se è più pubblicità un dipinto di David Hockney O una pubblicità come quelle che noi vediamo sui muri o in televisione Lo stesso vale per altre esperienze Della dell'arte contemporanea come quella della pop art La quale si chiama pop art Perché raccoglie dalla strada Il portato di immagini che sono intime della pubblicità E quindi anche se nessuno l'ha mai visto E molti invece o forse alcuni di quelli che ci ascoltano L'hanno sicuramente visto Un dipinto di Andy Warhol È la pubblicità della Coca-Cola Ma con un processo di rapimento Per cui non è la Coca-Cola che utilizza l'immagine Non utilizza l'arte Ma è l'arte che utilizza la Coca-Cola E quindi l'immagine di Andy Warhol Stabilisce un rapimento Un furto da ciò che normalmente ruba E cioè il prodotto industriale Che si appoggia sulla comunicazione dell'immagine In questo caso l'immagine si appoggia sul prodotto industriale E da celebrità Che diventa un elemento chiave della civiltà contemporanea Cioè l'elemento fondamentale per un cantante Per un direttore d'orchestra e per un artista Oggi più che nel passato è la celebrità Il nome Il nome e la firma E cioè l'autentica di un oggetto L'oggetto può essere il più spreggevole Ma se è toccato o firmato dall'artista Questo vale anche per la moda Diventa importante Naturalmente questo paradosso ha portato alcuni a firmare esseri umani E quindi alcuni artisti hanno firmato uomini Alcuni artisti hanno prodotto merda d'artista Intendendosi con ciò la merda prodotta dall'artista Che è la sua Ma in quanto d'artista non più merda ma opera d'arte Quindi realizzato il processo della trasformazione della materia in oro Dire Mida e quindi l'artista come Mida Qualunque cosa faccia è arte Su un tovagliolo guttuso fa un disegno Quel disegno non ha soltanto il valore di un ricordo Ma ha un piccolo valore di mercato E quindi la firma di per sé ha un valore La notorietà ha un valore aggiunto E questo naturalmente vale molto anche nel mondo del star system E quindi così da lì trapassa o passa nel mondo dell'arte E allora in questa condizione Che cosa di più straordinario? Di ribaltare il rapporto E partendo dall'idea che l'artista deve costruirsi un nome E con quel nome potrà vendere qualunque cosa E che il valore aggiunto, il plus valore del suo nome Sarà più importante del valore dell'opera Quindi un plus valore legato Che è poi tutto il senso dell'arte contemporanea La quale non è più legata alla qualità della singola opera d'arte Ma il fatto dice Quello è un Picasso Quello è un Miró Quello è un valore Il valore dell'oggetto Il valore estetico Che non sappiamo più cosa sia Però intrinseco E' subalterno al nome dell'autore Allora il nome dell'autore deve crescere Deve costruirsi Attraverso procedimenti Che possono anche essere spregiudicati Certamente il più spregiudicato E' quello adottato da Andy Warhol Personaggio che si è identificato con l'arte Ha raggiunto una notorietà Non grande come quella di Picasso Ma certamente degna di un classico E non ha fatto altro che rubare dai giornali Le immagini di uomini o cose famose E soltanto in quanto famose Potevano interessare alla sua ricerca estetica E quindi fossero la più bella donna del mondo Marilyn Monroe Il più potente uomo politico del mondo Che era Mao Tse Tung Il prodotto industriale più potente Che era la Coca-Cola E cosa ha fatto? Niente Ha preso le immagini della Coca-Cola Di Andy Warhol e di Mao Tse Tung Le ha ingrandite Le ha accostate tante bottigliette di Coca-Cola Non le ha neanche dipinte Ha fatto dei viraggi E ha preso dalla strada Dai manifesti Dalla televisione Quell'immagine E l'ha portata nel museo Tanto da arrivare poi a contaminare E anche un nostro Un italiano di valore come Mario Schifano Che nell'attività tarda Della sua ricerca d'artista Fotografava la televisione E le Polaroid Appena ritoccate Diventavano esse stesse opere d'arte Ma E ci preme qui dire E che la costruzione di quel monumento Che è il monumento artistico E di mercato di Andy Warhol Poggia sopra una serie di furti Espliciti E cinicamente perpetrati Esiste Esiste un fotografo cinese Che ha fotografato Mao Tse Tung In quell'immagine che vediamo Consacrata E che è ancora in piazza Tiananmen Lì Dipinto o fotografia Quell'immagine È un'immagine celebrativa Un'immagine Stabilita una volta per tutte Da un fotografo di cui non conosciamo il nome Sappiamo Sanno Non i mendicanti E forse neppure i monaci E non sanno moltissimi Che sono distratti dall'arte contemporanea Ma quei pochi che O quei molti che Osservano l'arte contemporanea Sanno che il Mao Tse Tung È di Andy Warhol In quanto ladro Perché quell'immagine è di un altro E lui non ha fatto altro Che riprenderla Alterarne i colori E ingrandendola Mettele in un museo Stessa cosa per l'immagine di Marilyn Monroe Sicuramente quel volto Quello scelto da Andy Warhol È di un fotografo Del fotografo non conosciamo il nome Di Andy Warhol Conosciamo il nome E gli attribuiamo l'opera di un altro Poi Marilyn Monroe Può essere o tutta rossa Un monocromo rosso Un monocromo verde Oppure con i capelli gialli Il volto rosa A seconda dei viraggi Stabiliti Sull'immagine fotografica Da Andy Warhol Ma l'impianto dell'immagine L'esistenza stessa dell'immagine Non è di Andy Warhol Andy Warhol ha fatto un furto Attraverso questo furto Ha costruito il proprio nome E ha usato Marilyn Monroe E Mao Tse Tung Per la loro infinita notorietà Per diventare celebre E assumere il nome Ancora più cinicamente Ha condotto questa impresa Con le bottiglie della Coca-Cola Non è lui che fa pubblicità La Coca-Cola Ma è la Coca-Cola È pubblicità Andy Warhol Non è il pittore Che aiuta La comunicazione Della Coca-Cola O dei pomodori Dei pelati Campbell Altro tema prediletto Da Andy Warhol Ma sono i pelati Campbell E la Coca-Cola Che fanno pubblicità A Andy Warhol E ne costruiscono Insomma In questi rapporti Così complessi E ribaltati Si stabilisce un principio Che la pubblicità Invade la nostra esistenza Secondo uno schema Che era stato intuito Perfettamente Dai futuristi Per cui l'arte Non è più un quadro Ma è tutto È la sedia È il bicchiere Sono le posate C'è una estetizzazione Della vita E oggi noi viviamo In quella dimensione Per cui anche chi Non sa niente Di pittura Vede immagini Vede immagini E per tanti altri Al punto tale Che un altro artista italiano Di grande rilievo Di grande rilievo Con una sola Come spesso accade Intuizione Perché un altro tema Dovremmo affrontare È che una sola intuizione Fa la fortuna E la vita di un artista Ebbene un artista italiano Appena celebrato A Catanzaro Essendo calabrese Che si chiama Mimmo Rotella Ha fatto della sua produzione In fondo una sola opera Che è un palinsesto Di manifesti stracciati Che come accade per strada E potrebbero essere Opere di Rotella O le opere di Rotella Potrebbero essere Manifesti stracciati Altro non è Che una serie di strappi Tre, quattro strati Di manifesti Fintanto che tu vedi Un pezzo di un manifesto Di un film Un pezzo di un manifesto Di un prodotto Un liquore O un biscotto E tutti insieme Creano un effetto Un'immagine Una forma Un'idea Di quasi informale Evidenza Ma soprattutto Pittoricamente Attraente E altro non sono Che strappi Di strati diversi Di manifesti Put that heart with me Tha rod with me Cha-cha-cha Ross the far ride I can't forget you Notty dreads You're up in here I gotta respect you Know what I'm saying Light is in the air Enemies On the borderline Who'll be the next fire 41 shots by the yellow side You said he reached, sir But he didn't have no peace, sir But now he rests in peace, sir In the belly of the beast, sir You guys are vampires In the middle of the night Sucking on human blood Is that your appetite? You said he reached, sir But he didn't have no peace, sir But now he rests in peace, sir In the belly of the beast, sir Have you ever been shot 41 times Have you ever screamed And no one heard you cry Have you ever seen The publicity, the streets, the streets, the existence of the pop art Di cui molto si è parlato Forse si parla meno oggi È legato al fatto che non si può concepire di avere Salvo che in un luogo remoto Una visione pura della natura O di una città Soprattutto di una città Senza che i monumenti, le chiese, i palazzi Siano continuamente contraddetti e contaminati Da immagini allotrie, diverse, pubblicitarie A partire dai segnali stradali I segnali stradali pongono un altro grande tema Della civiltà figurativa contemporanea Chi li ha inventati negli anni, presumo, 50 Tra 50 e 60 Ha avuto una formidabile intuizione derivata Dal nucleo Dal principio dell'arte astratta Per cui se voi immaginate o ricordate Questo tutti lo sanno Il senso unico Il divieto di accesso per un senso unico O il divieto di sosta Quindi rosso e bianco Oppure blu con un cerchio rosso E poi una diagonale per impedire l'accesso Per indicare Beh, nulla di naturalistico Nulla di realistico Ma dei segnali che danno la sensazione Che, e questo è il senso dell'arte astratta Che attraverso la geometria Uno intuisce un concetto Di qua non puoi passare Perché è un senso unico Qui non puoi sostare Perché c'è una sbarra che te lo impedisce In sostanza Questi segnali stradali Almeno nella loro prima versione Sono stati concepiti da un grandissimo grafico Grande non soltanto per la capacità di comunicare Attraverso un'astrazione assoluta Che però riesce ad avere un segno Che diventa senso Ma, e questo anche Dà ragione della semiologia Cioè dello studio dei segni Ma è riuscito a concepire delle immagini Così astratte Che sono astratte anche dal luogo dove stanno E mentre qualunque modesto cartello o manifesto Disturba un monumento o una chiesa Un segnale stradale Se ne sono accorti alcuni artisti Come Jim Dine O come Carlo Guarienti Può essere messo nel luogo più sacro A fianco di una chiesa gotica O in un luogo archeologico E tu fai astrazione da lui E non lo vedi come qualcosa Che entra in contrasto con l'antichità Stanno in due spazi distinti Uno spazio fisico E uno spazio della mente Ecco, l'intuizione di chi ha inventato i segnali stradali Va certamente indicata come uno dei principi estetici Formidabili della civiltà figurativa contemporanea Di buonanotte, Raquel Buonanotte, Raquel Abbiamo trasmesso alle otto della sera Le origini dell'arte contemporanea Di Vittorio Sgarbi In redazione Nella Ottolenghi Regia di Giancarlo Simoncelli Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook